Convenio a Storia 2018, Genova e l'economia del ponte. Abbiamo Giorgio Vitali che ci parla, Morandi geopolitico e i corridoi euro-barcanici. Io aggiungo solo che è un chimico? Sì. Perfetto. Vabbè, intanto io ho poche cose da dire perché quello che mi interessa al momento è sollecitare l'attenzione su alcuni punti essenziali e non devo fare una trattazione come quella che ha fatto l'amico Orazio anche perché quello che ha detto Orazio riguarda una denuncia che lui ha preparato ma che io ho controfirmato e che abbiamo presentato alla procura della Repubblica di alcune città italiane. Ne aspettiamo anche l'esito perché questa denuncia è stata ripresa da alcune riviste, da alcuni giornali per cui ha girato un po' anche perché è molto importante quello che è stato detto in quella denuncia. Il punto che volevo sottolineare io riguarda l'aspetto della società nella quale il cittadino si viene a trovare. Tra l'altro proprio sabato o domenica 30 di novembre ci sarà un importantissimo convegno all'Accademia dei Vincei con inizio alle 10 e mezzo e che riguarda praticamente la riproposizione e dal punto di vista giuridico del concetto di bene comune. Io ritengo che questa strada sia una strada praticabile per cercare di risalire una china che è quella che è stata ovviamente descritta da molti oratori che mi hanno anticipato. La società italiana di oggi come la società in tutto il mondo diciamo pure è una società completamente in mano al caos organizzato. Il fatto che ci siano dei magistrati che non fanno il loro mestiere non è dovuto al fatto che questi sono dei delinquenti, è dovuto al fatto che sono stati selezionati in quanto delinquenti che è completamente diverso. La stessa situazione riguarda ad esempio il Comune di Roma. Il Comune di Roma è gestito da quello che viene chiamato mafia capitale, ma non è una novità. Lo sai eh? Allora la mafia è entrata a Roma ufficialmente il 4 giugno 1944. Si è insediata e tu lo sai bene, tu lo sai si è insediata a Roma. Si è insediata a Roma e gestisce ancora l'amministrazione comunale di Roma. Perché non si spiegherebbe per quale ragione ad esempio gli automezzi dell'Atac non funzionano. Hanno fatto persino, hanno tentato persino i radicali, attenzione. Parla del biglietto. Eh, no, è una denuncia che io, che noi abbiamo presentato. Parla dei corridoi, Giorgio, parla dei corridoi. Dopo. Perché ci devo solo arrivare ai corridoi. Perché il video che abbiamo fatto sui corridoi sta navigando sui 26.000 contatti e quindi praticamente va bene così. Però devo arrivare alla conclusione in cui dico quanto sia importante prendere in considerazione i corridoi, che è una cosa abbastanza diversa. Ritorniamo al discorso di mafia capitale. Perché i radicali hanno fatto, hanno tentato di fare un referendum. Per la stessa ragione per cui è stata fatta un'operazione su Alitalia che è durata per circa 30 anni. Mia sorella che veniva regolarmente da Giappone e prendeva gli aerei dell'Alitalia mi raccontava come di anno in anno la situazione stesse peggiorando. Prima l'Alitalia era veramente al top anche per quanto riguardava la cucina. Poi hanno incominciato a interferire sulla cucina. Cioè mangiava sempre peggio eccetera. Poi gli aerei non funzionavano. Poi c'erano le sciopere. Poi c'erano i ritardi. Tutto questo perché si voleva semplicemente privatizzare. Ma privatizzare a costi irrisori. La stessa cosa riguarda l'Atac. Perché non funzionano i mezzi dell'Atac? I mezzi dell'Atac non funzionano perché i loro signori devono svendere l'Atac ai soliti privati. I quali una volta che l'hanno presa ogni due minuti passerà l'altro mezzo. Adesso passa ogni due ore. Dopo ogni due minuti ogni due giorni. Poi dopo ogni due giorni. La stessa cosa riguarda la monnezza. Voi sapete che la monnezza è una ricchezza enorme. La gestione della monnezza viene fatta sistematicamente da mafia capitale. È mafia che gestisce queste cose. Gli altri ubbidiscono. Perché chi comanda è mafia e non c'è bisogno di andare a cercare quattro testa di casa monica o che sia per scoprire che cos'è la mafia. Giusto? E ricordiamocelo bene. Allora ho fatto questa piccola digressione per dire che la società italiana come più o meno la società mondiale è un intrico di situazioni all'interno delle quali è molto difficile districarsi e dove il cittadino che è tenuto a credere che viviamo in un regime dove il singolo cittadino con il voto ben inteso o con altri strumenti è in condizione di condizionare i comportamenti dei governanti. Tutto questo è completamente falso. È una mistificazione sostanziale. Ricordo che all'inizio degli anni Sessanta l'avvocato Luciano Lucci Chiarissi, che era il direttore di una rivista che si chiamava L'Orologio, già allora proponeva la scomparsa delle società per azioni. Avevo una ragione. Anch'io sono favorevole all'eliminazione delle società per azioni perché sono all'origine di tutte queste cose. Qualora noi dovessimo andare al potere, la prima cosa elimineremmo tutte le società per azioni. Di capitale si chiamano. Chiamiamolo società per azioni, che mi sembra che sia la denominazione più significativa. Ciò detto e avendo detto queste cose come premessa di tutto il discorso, vorrei fare una conclusione in questo senso. Per riuscire a districarsi all'interno di una situazione interna dei singoli stati e soprattutto italiana, il filo di Arianna è uno solo. Ragionare in termini di geopolitica perché è un sistema a rimbalzo attraverso il quale è possibile capire tutto. Però bisogna avere una mentalità geopolitica e affrontare tutti i problemi in termini di geopolitica, che significa geografia e storia messi assieme. Per fare un esempio di questa situazione mi riferisco a un video che ho fatto di recente assieme all'avvocato Cerchiare e un altro che ho fatto assieme all'amico Giuseppe Turisi qui e come stavo dicendo hanno destato l'attenzione di moltissime persone. Questa faccenda riguarda prevalentemente un qualcosa che passa sistematicamente inosservato. E cioè quello che poi è stato scritto, io qui due libri, questo è uno, non so chi, ma comunque faccio vedere cosa è il libro, l'Italia, l'Europa centro-orientale e i Balcani. Corridoi pan-europei di trasporto e prospettive di cooperazione. Sembra una cosa banale, ma non lo è assolutamente. Perché fin dall'inizio del Novecento sono stati stabiliti per rapporti internazionali i corridoi, cioè le vie di comunicazione, che devono unificare l'intero continente europeo, compresi i Balcani e l'Eurasia. Uno dice, ma te che te ne frega? No, no, me ne frega moltissimo perché questa è la risposta a qualsiasi quesito. E almeno è questa risposta che ci deve interessare maggiormente. Così come quando noi il tempo fa, Orassio te lo ricorderai, noi parlavamo dell'importanza della civilizzazione romana, la civilizzazione romana non erano gli eserciti che vincevano i nemici, ma erano le strade. Perché la civilizzazione passa attraverso la comunicazione, ci vuole poco. Un altro libro, sempre su questo argomento, e vedi caso scritto in francese, Autorout impact sur l'economie e l'environment. L'impatto sulle economie sembra una cosa banale, no? Sull'economia e sul circondario delle strade per auto. mi pare ovvio. Dice, è ovvio. Sì, ma bisogna vedere com'è, in che modo. Bisogna vedere come le vai a strutturare. Bisogna vedere quale sono le strade che sono state scelte a suo tempo. Perché se voi vedete qui, voi vedete tutti dei tracciati che sono tracciati preferenziali. Allora, siccome ci sono dei tracciati preferenziali, la soluzione bellica nella società in cui è improbabile una guerra, perché poi travalicherebbe nell'uso della bomba, è quella di interrompere i trasporti. È l'unica strada praticabile. L'interruzione dei trasporti, ma quali trasporti? Quelli che importano. E quali sono quelli che importano? Quelli che sono segnati nei corridoi previsti all'inizio del Novecento. È lo stesso discorso che non fu fatto in maniera adeguata dai tedeschi nell'ultimo conflitto mondiale, quando capirono che era troppo tardi per scatenare i sottomarini per affondare le navi inglesi. Avrebbero dovuto farlo all'inizio della guerra e come al solito si arriva sempre alla fine. Ma se i tedeschi avessero avuto una flotta di sottomarini, di 300 sottomarini pronti, la guerra sarebbe finita in dieci giorni. Questa è la differenza. La stessa cosa è di questo tipo. Io non dico che, e questa è la mia conclusione, io non dico che il ponte sia stato minato, anche se ho le prove perché ho degli amici che mi hanno scritto e hanno sentito i botti. Io dico comunque che quando noi dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi avvenimento, e non soltanto tragico come quello del ponte, noi dobbiamo partire sempre nella valutazione da una base di carattere non scientifico in termini di scienze moderne, sia pure anche sofisticate, ma di carattere geopolitico, perché la geopolitica è onnicomprensiva e se si parte di lì si arriva sicuramente alla conclusione. Come ha detto il primo oratore questa sera, la botta del ponte Morandi non si spiega in altra maniera che non con un sabotaggio. Chi l'abbia fatto io qui non lo voglio dire, anche se penso che ci possa essere, ma se non partiamo dall'idea che questo è stato un sabotaggio contro l'intera economia nazionale, sbagliamo per qualsiasi operazione che potremmo prendere. Grazie. Una precisazione perché sapevo che saremmo arrivati al punto di pensare anche che il ponte potesse essere stato distrutto frutto da un sabotaggio. Qui devo prendere un attimino le distanze, non per tanti motivi, c'è la magistratura che sta indagando, è giusto che faccio il soccorso, sembrerebbe abbia assolutamente escluso questo, io dico sembrerebbe perché, ma onde evitare qualsiasi problema è giusto dire che può essere un'ipotesi, ma nonostante le varie prove, non prove, è la magistratura che dovrà, si spera, stabilire in ogni caso. Di sicuro voglio aggiungere una cosa, è fondamentale il discorso che ha fatto il professore nella sua presentazione per un motivo molto semplice, la geopolitica è fondamentale, bisogna avere veramente conoscenza di geopolitica per poter capire certi meccanismi e da lì, parlando proprio di ponti e come ha detto lui parlando di vie, mi faccio una domanda che in questo consenso non c'entra nulla, però dovrebbe farci riflettere, per quale motivo non si vuole fare lo stretto, il ponte sullo stretto di Messina? Lasciamo perdere quello che i giornali ci dicono, ci vogliono inculcare, è conveniente il terremoto, questo e qualt'altro, del resto abbiamo visto, la Cina ha fatto il ponte più lungo, credo che sia in qualcosa come 50 km, l'ha realizzato in 8 anni, se non ricordo male, in Giappone comunque in ogni caso ci sono tanti di quei ponti, eppure è molto più sismico rispetto a noi, ci sono delle motivazioni prettamente fisiche, proprio specificatamente economiche, valutiamole, io non dico... per impedire che il pesce fresco di Palermo arrivi ai mercati di Monaco e di Baviera in 6-7 ore, per impedire oggi con l'aereo non credo, il pesce fresco anche, non è questo il punto, credo che invece come Genova, e qui lascio aperto al dibattito, poi che magari chi si ferma a cena potremo tranquillamente affrontare, quale motivazione può esserci per cui sia il ponte sullo stretto, ma anche il ponte di Genova, possa interessare a qualcuno che non venga, da un lato non è realizzato, dall'altro lato venga distrutto. Non mi pare un'ultima precisazione, perché è importante quello che lui ha detto, però come al solito noi non dobbiamo più delegare a qualcuno, se uno mi dice che la magistratura indaga, io rispondo subito, che dell'indagine della magistratura non mi fido a priori, perché qualora ci fosse un magistrato indagante che tanto tanto andasse a ricercare le vere origini di quel crollo, è molto probabile che il magistrato possa fare la fine di tante persone, come tra l'altro un figlio di Agnelli, che vedi caso si è buttato da un ponte. uno strano incidente aereo che ha colpito anche il figlio di John Kennedy, ricordiamoci questo è il primo fatto, quello che volevo dire io è questo, non è tanto la soluzione del problema quanto avere la capacità di districarsi utilizzando gli strumenti, noi qui giustamente l'amico Piero ha fatto riferimento alle scienze, è uno dei principi fondamentali della scienza e cercare di districarsi attraverso gli strumenti che man mano si riescono ad acquisire per riuscire a comprendere ciò che abbiamo davanti, quindi lo stesso discorso riguarda questo, non si può parlare di situazioni contingenti senza conoscere la geopolitica, non si può escludere la geopolitica da alcune analisi che si possa fare su argomenti che riguardano l'Italia e soprattutto l'Italia nei suoi rapporti, attenzione, che cosa sarebbe l'Italia con un ponte sullo stretto? Ma va, che cosa serve? Rovina l'ambiente, rovina l'ambiente, rovina l'ambiente. Ricordiamoci che il Consiglio di amministrazione del ponte sullo stretto c'è ancora in rigore e costa 500 milioni all'anno, devo chiudere perché questo è il tema di un altro... Sì, c'è stato in mezzo pure il mio consuocero che è morto da qualche anno. Allora, il ponte sullo stretto, e questo lo dobbiamo dire, verrebbe a creare per l'Italia un ruolo indiscusso di leader di tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo. Assolutamente. È quello che non si vuole ed è quello che non si vuole. Ecco quello che significa parlare di un cipetino. Da siciliano lo dico, noi il ponte, perché sono siciliano, noi il ponte lo vogliamo, però mi fanno dire ai siciliani che non vogliono il ponte, nulla di più fa. Ma è naturale, è ovvio. Va bene, grazie dell'ascolto. Grazie. 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 Grazie.